Ho attaccato da registrazione perché voglio farvi vedere quanto ci metto a attraversare la strada con queste mandre di robe che ci sono in mezzo alla strada adesso. Sabato sera, le 5 e mezzo. È impossibile attraversarla. Bisogna buttarsi in mezzo, ci sono ancora le corriere. La roba è credibile. Non si passa. Non si passa. Però passare così facendo una manovra meschina. Questa è ferma in mezzo, non si sa perché. Cioè c'è 20 metri, questo va per terra. Cioè non si rende mica conto che ci sono in mezzo alla strada, vero? E sì che ha una certa età, qualcuno anche dovrebbe arrivarci. Praticamente sono eterni bambini. Eterni bambini. Guarda questo. E' un ciclabile di là comunque c'è in mezzo anche la strada e mi ha fatto perdere il verde. Tanto lui non è che abbia tanto da fare stasera, non deve mica andare a lavorare. C'è una puzza o cazzo qua di merda. No, c'è la fogna aperta. Andiamo avanti ragazzi. Andiamo avanti ragazzi. Guardate pure adesso mi incrocio. C'è il semaforo ma guardate che macello. Questa roba qua non ha già problemi di freno. Che stai che sono. Vediamo se arriva a verde. Fretta. Non c'è modo di pulire il vetro oltretutto. Si è sporcato di smog e non viene più pulito. Passo d'uomo ovviamente. Se guida come in fiume. Tutti si incastrano, si infilano. Senza guardare, senza niente. Come vedete. Come vedete. non si trova bene, non si trova bene non si trova bene vedete che bel marcello sono bloccato adesso ovviamente bambini grandi tutti senza casco casco da rarità che non ce ne mette nessuno il mio fa i 30 e ha tre ruote ma vado io ai 15-20 ma questi qua fanno più di 30 adesso questi qua piccoli piccoli magari no faranno ma quelli un po più grossi fanno i 50 come in cotorini normali questi con la targa, guarda questi questa parte sariamo all'incrozzo random passo passo a mezzogiorno non ho mangiato niente adesso vediamo la glicemia com'è andata qua ho buttato ho preso la corsia del corriere perché là qua almeno è più più sicuro che non ti saltano fuori anche se non è ecco di qua ragazzi vediamo il semaforo c'è verde ho verde io ma come vedete ho verde ma loro passano uguale c'è devo girare questo deve questo è rosso ma passo uguale c'è l'audi ma è grosso soldi posso fare qualcosa che voglia avvita adesso vediamo se vedo una frezza qua ecco un'altra qua BMW passo io qua stavano mettendo a posto tutte ste buche qua ma non lo so è tutta è tutta dissestata perciò dovevo rifare tutto allora che ecco di qua stavano andare sulle montagne russe adesso si comincerà anche a avere la gente ciucca da baigio già in giro con la strada perché è sabato i ciucchi da baigio qua c'è una bella bucazza e lasciate anche tutto c'è la piattuta mi asce giù le ruote qua c'è arrivato il lavoro come vedete sta aprendo anche stendo non si sa perché con l'inverno cosa permette di portare più lavoro qua non si è lavorato neanche st'estate figuratevi st'inverno dunque parcheggiamo parcheggiamo lo schifo non c'è nessuno come vedete non c'è un cane al ristorante che sono le sei porta fuori dei bisi e vado ciao ciao ci vediamo al prossimo video iscrivetevi